Non finisce mai di stupire l'ecletico Roberto Mauri. La sua grande passione per il fiume, l'Adda, qui nel Lodigiano, l'ha portato a costruire una zattera rudimentale e l'ha abbellita con uno dei suoi vortici in stile orientale. Per fare che cosa? Scendo in corrente, dando le spalle alla corrente e guardando quel vortice che dovrebbe significare o per me significa il cosmo e poi dopo ognuno traga il proprio senso, il proprio significato su cosa. Stare fatto comunque che mi diverte, sono cose che mi divertono e le faccio spesso e questa è una di quelle che sto facendo, ecco. Tra pochissimo parto. Come siamo e dove arriveremo? Mezzanino di Bofalora d'Adda siamo e arrivo al ponte di Lodi e poi lascio andare la struttura. La lascio dove arriverà, arriverà, non so dove però spero a Venezia, al mare, non lo so, dove ne avrà voglia. Poi ha preso il largo lasciandosi condurre dalla corrente del fiume come un saggio orientale alla ricerca di una simbiosi totale con la natura circostante. Non sono mancati momenti critici ma il fiume conserva rispetto per chi di lui ha rispetto. Non solo, gli elargisce spettacoli e sensazioni inimitabili. Grazie. Grazie a tutti.